Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme igieniche sui prodotti posti in commercio per le prossime festività di Pasqua, i carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, congiuntamente ai militari del NAS di Palermo e ai carabinieri forestali effettivi al locale centro regionale anticrimine ambientale, hanno individuato in Viale Piazza Armerina, vicino al quartiere Borgo Nuovo, un laboratorio abusivo dedito alla preparazione e distribuzione di frattaglie di animali, le cosiddette stighiole. Il locale si trovava in una via laterale ben occultato. È stata l'attività informativa condotta dai militari della stazione di Borgo Nuovo a consentire di scovare il deposito di carne. In manette è finito Tony Ficano, nato in Francia, classe 1974, residente a Palermo, responsabile del reato di furto aggravato. L'uomo, titolare gestore del laboratorio, al fine di alimentare ben 10 frigoriferi con gelatori presenti nell'immobile improvvisato e costruito abusivamente, aveva illecitamente allacciato il cavo elettrico alla rete pubblica. L'uomo inoltre è stato deferito in stato di libertà poiché è stato trovato in possesso di 500 kg di interiore di animali in pessimo stato di conservazione. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro, in quanto la carne era priva di tracciabilità, ossia non si poteva risalire in modo documentabile alla relativa provenienza. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L'immobile e le attrezzature sono state sequestrate, gli alimenti affidati ad una ditta autorizzata allo smaltimento.